Salve a tutti i giovani droidi e bentornati sul canale dell'insolenza di R2D2. Io sono sempre Gaetano e oggi voglio parlarvi di un argomento che mi affascina moltissimo all'interno della saga di Star Wars, e cioè quello delle tantissime specie presenti all'interno della saga, e nello specifico quelle che sono le specie più longeve all'interno del franchise. Ve ne parlo nel dettaglio dopo la sigla. Nel video vi presenterò le 5 specie canoniche ad oggi conosciute più longeve all'interno del franchise, e alla fine avrò modo di parlarvi di altre specie abbastanza longeve nel canone e di alcune specie molto longeve all'interno delle opere però Legends, e cioè non più canoniche. Iniziamo il nostro viaggio con una specie conosciutissima all'interno del franchise, e cioè i Wookie, la specie di Chewbacca. Come sappiamo dalla famosa guida Star Wars Absolutely Everything You Need To Know, l'aspettativa di vita dei Wookie è di circa 400 anni. Perciò il nostro Chewbacca durante gli eventi della saga è un amabile signore di mezza età, perché durante gli eventi di solo a Star Wars Story ci viene rivelato che egli ha 190 anni, e quindi in episodio 4 aveva proprio 200 anni, la metà dell'aspettativa di vita degli Wookie. Anche se non si parla di esseri senzienti, è molto interessante analizzare anche l'aspettativa di vita enorme dei giganteschi alberi Vroshir che popolano il pianeta Kashyyyk, ovvero il pianeta natale dei Wookie. Pensate che questi alberi possono vivere anche 50.000 anni. Passiamo ora ad un'altra specie molto conosciuta all'interno delle opere starwarsiane, e cioè quella degli Hutt. specie che attraverso il clan degli Hutt aveva un potere immenso per quanto riguardava la criminalità nella galassia lontana lontana. Sempre tramite la guida Star Wars Absolutely Everything You Need To Know sappiamo canonicamente che quando Jabba morì aveva 604 anni. Le opere Legends approfondiscono la questione spiegandoci che gli Hutt hanno degli stadi ben precisi nel corso della vita, e cioè che dalla nascita fino ai 70 anni sono considerati bambini, dai 70 ai 90 anni sono considerati giovani e dai 90 anni ai 650 anni sono considerati adulti. La vecchiaia invece si attesta dai 650 agli 845 anni, e gli esemplari che riescono ad arrivare a 900 anni sono considerati abbastanza anziani. Addirittura in The Old Republic è presente un Hutt particolare, di nome Zirkos, che aveva vissuto per la bellezza di 1700 anni. Come vi dicevo però tutte queste informazioni sono tutt'oggi Legends, e cioè non canoniche, ma possiamo ipotizzare che la vita media di un Hutt si attesti intorno agli 800-850 anni. Passiamo ora ad una specie che è ancora sconosciuta all'interno del canone, della quale però fa parte un personaggio importantissimo, sto parlando ovviamente della specie di Yoda. Anche se non conosciamo praticamente nulla della sua specie, possiamo dire che sicuramente è molto longeva, poiché Yoda è arrivato a vivere fino a 900 anni. È anche però probabile che il maestro Jedi tramite la forza sia riuscito ad allungare la sua vita, ma possiamo star certi che comunque l'aspettativa di vita di questa specie è molto alta, e lo capiamo anche e soprattutto dal fatto che il piccolo Grogu, pur avendo 50 anni, ha praticamente le facoltà cognitive di un bambino. E questo significa che molto probabilmente la sua è una specie che cresce molto lentamente nel corso del tempo. Arriviamo poi a un'altra specie ancora sconosciuta, rappresentata dal personaggio di Maz Kanata, che conosciamo nella trilogia sequel e in particolare in episodio 7. Come ci dice anche Ansolo, Maz Kanata gestiva il suo abbeveratoio su Takodana da più di mille anni. E come sappiamo dal Visual Dictionary di episodio 9, Maz Kanata è nata mille e sette anni prima della distruzione della base Starkiller. E quindi possiamo ipotizzare che la sua specie possa vivere più di mille anni. Passiamo ora al primo posto, e cioè quella che tra le cinque presentate è la specie canonicamente più longeva nell'universo di Star Wars. Sto parlando del temibile Sarlacc, il mostro apparso per la prima volta in episodio 6 che ingerisce le sue prede e le digerisce per migliaia di anni tra atroci sofferenze. Nel fumetto canonico Galaxy's Edge, ai margini della galassia, c'è una simpatica storia in cui Ansolo si trova invischiato in un'avventura dove ci sono dei cuccioli di Sarlacc. E tramite questo fumetto scopriamo che i Sarlacc, prima di raggiungere la maturità, non sono piantati nel terreno ma si muovono liberamente per procacciare il cibo. Una volta raggiunta la maturità, che pensate arriva al raggiungimento dei 30.000 anni di età, quindi dopo 30.000 anni dalla nascita, i Sarlacc si piantano poi nel terreno e aspettano che le ignare prede cadano dentro le loro fauci. Nelle opere Legends sapevamo che l'aspettativa di vita dei Sarlacc era di circa 50.000 anni, e considerando il fatto che anche nel canone essi raggiungono la maturità all'età di 30.000 anni, è probabile che anche canonicamente sia più o meno quella la loro aspettativa di vita. Come vi dicevo a inizio video, oltre a questi cinque esempi di specie più longeve, all'interno del canone ci sono moltissimi altri esempi di longevità. Abbiamo ad esempio nel fumetto Ansolo una pilota particolare chiamata Loreanno, che fa parte di una specie sconosciuta che si dice possa vivere centinaia di anni. All'interno di questa lista ovviamente non ho annoverato degli esempi particolari come il Bendu o come i Guardiani della Forza presenti durante il ciclo di Mortis in The Clone Wars, perché ovviamente si tratta di entità della forza e che quindi sono praticamente sovrannaturali. Anche nelle opere Legends, e quindi come ormai sapete non più canoniche, sono presenti moltissimi esempi di longevità, anche molto molto elevati. Abbiamo ad esempio la specie dei Neti, che era composta da esseri senzienti che avevano le caratteristiche di piante e alberi, e che quindi tramite il loro potere rigenerativo potevano sopravvivere e vivere migliaia di anni. Allo stesso modo, un'altra specie molto particolare, e cioè i Gendai, potevano vivere anche fino a 7000 anni, considerando il loro potere rigenerativo e la loro enorme forza fisica, data dal fatto che il loro corpo era formato praticamente da soli muscoli e nervi. Vi ho parlato dei Gendai proprio perché all'interno della serie animata Clone Wars del 2003, che ad oggi non è più canonica, è presente proprio un esemplare di Gendai, il Cacciatore di Taglie Durge, che all'interno di questo prodotto, che è assolutamente imperdibile che trovate su Disney+, ingaggia una bellissima battaglia con Obi-Wan Kenobi. La cosa più interessante è che il personaggio di Durge è stato da poco canonizzato poiché è apparso all'interno del decimo numero della serie a fumetti Dottoressa Afra 2020, serie a fumetti ambientata dopo episodio 5. Ditemi nei commenti cosa ne pensate della longevità di queste splendide specie di Star Wars e se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Io vi saluto e che l'insolenza sia con voi!